Un 35enne di Campiano di Ravenna è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di arbusi della pianta di Cannabis Indaca, dalla quale estraeva la marijuana e che elaborava per ottenere oli ad elevata concentrazione di principio attivo ed altri derivati. È iniziata all'albare il 18 agosto l'operazione antidroga dei carabinieri dell'aliquota operativa di Cervia, Milano Marittima, coadiovati anche dalle unità cinofili e dell'arma specializzata nella ricerca della droga. Nell'abitazione del 35enne sono state trovate anche pubblicazioni riguardanti il tema della coltivazione e della raffinazione della pianta di Cannabis. Questa mattina il Tribunale di Ravenna ha confermato l'arresto e rinviato il processo a fine mese. Il giovane, oltre al reato di detenzione per stupefacenti, dovrà rispondere anche della detenzione di alcuni barattoli di polvere da sparo trovati in caso insieme alla droga.